Invece una cosa che guarda la spesa della raccorda dei rifiuti che ci sta una voce in produzione e un in aumento c'è un incremento di moneta euro che dice peso della raccorda di finanziaria di rifiuti ma si che si tratta? e invece poi c'è una riduzione anche si abbiamo spostato ma questo tipo di variazione avrebbe potuto praticamente essere fatto con delle relazioni, se non addirittura con delle ordine diligenziali questa manda è perfetta questa manda è perfetta questa manda è adesso nell'ambito dello stesso mando che è anche legato di spesa quindi il consiglio comunale mi prende altro forse anche al di là delle poche... poche delle... poche delle... non direi ma... questa è una cosa che vuole dire non è che... forse prima di un giusto capitolo adesso non siamo in casa no... e' un giusto capitolo si... allora... la lettera del senso si può rispondare adesso l'unico e' un giusto ma le qualità... siccome non c'è la qualità di giudica perciò... e' un giusto capitolo che per lui non c'è la solita e' un giusto capitolo e lo portato a lui e' un giusto capitolo che senti... ma lei è... non è... non è...